Sostanzialmente vengo dalla strada e sono uno che non scende a compromessi. Signore e signori, l'attore più amato del mondo, Steve McQueen. Fico, grazie. Amava le auto, l'alcol, le donne ed era un uomo interessante, cool, pericoloso. Voleva lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. Praticamente dirigeva anche lui. Stabiliva lui le regole. Non rispondeva a nessuno. Adesso ti libero da tutti questi idioti. Devi credere in quello che fai. Era la sua passione. Se trovi una passione nella vita, allora sei a posto. Non credo che un pilota sarebbe in grado di spiegare perché corre. Penso invece che proverebbe a mostrartelo. Non rispondeva a nessuno. Non rispondeva a nessuno. Non rispondeva a nessuno.